Ragazzi allora oggi siamo in vena di video però questo dovevo farlo assolutamente ho visto tanti youtubers che hanno fatto video su questo articolo 13 che verrà discusso se non sbaglio il 27 novembre nell'Unione Europea insomma nel consiglio europeo che faranno allora personalmente ho visto appunto alcuni video ho visto, ho letto un po' cosa prevederebbe questo articolo mi sono fatto un'idea molti sono preoccupatissimi sia su youtube sia su facebook allora principalmente su youtube dato che youtube ha inviato un'email a tutti youtubers di fare, di spargere un po' la voce e quant'altro sarebbe bello che comunque youtube intanto iniziasse a migliorare se stesso prima di tutto e poi magari chiedere favori a noi però a parte questo perché insomma è vero che ci paga però altrettanto vero ci paga tra virgolette è altrettanto vero che comunque youtube esiste grazie a noi creatori di contenuti tra vlogger, gameplay e quant'altro tantissime altre cose chi gira il mondo fa vedere questo, l'altro, quell'altro quindi youtube funziona e vive ok? grazie a noi ed è ora che youtube si renda conto di questo bene chiusa parentesi detto questo youtube ha ragione ha ragione nel senso che ha ragione di essere preoccupato perché si effettivamente il problema è il rischio se però ho visto appunto qualche video ho visto un video anche di billy foster che ha chiuso il video in maniera esemplare secondo me perché ha detto questi qui che vogliono che tra l'altro a mio avviso è proprio una specie di dittatura in televisione non ne parlano perché ragazzi ha detto bene ad esempio anche Favij se non sbaglio che youtube è l'alternativa alla televisione no anzi adesso la tv è diventata l'alternativa di youtube quindi è per questo che non ne parlano perché youtube di fatto sta rubando tra virgolette sempre degli spettatori alla tv perché adesso molti anzi la maggior parte guarda cosa guarda i video su youtube rispetto alla televisione ad esempio quindi però billy foster ha chiuso il suo video dicendo questa cosa qui cioè è un po' un controsenso e secondo me vanno contro i loro interessi sono d'accordo con lui quando ho detto appunto questa cosa qui perché le condivisioni avvengono grazie internet grazie internet avvengono molti video molte cose molte situazioni sono venute fuori grazie agli youtubers che hanno evidenziato questo hanno evidenziato appunto alcune situazioni hanno magari mostrato sì loghi quant'altro però adesso non vado nello specifico perché non sarei non saprei neanche tirarvi fuori un esempio pratico però di fatto gli youtubers molte volte hanno tirato fuori delle situazioni che poi sono state discorse anche magari in televisione poi ripeto la tv si vede che sta un po' perdendo rispetto a youtube ad esempio perché molti youtubers poi vanno in televisione vengono chiamati in tv o telefonicamente o via skype o di persone e quant'altro semplicemente perché appunto i youtubers portano spettatori alla tv dato che vengono seguiti da migliaia migliori di persone portano appunto spettatori per quanto riguarda appunto l'articolo 13 allora molti stanno dicendo è perché il problema è che youtube poi dovrebbe prendersi le proprie responsabilità però ad esempio far vedere il logo della juventus in questo momento in questo preciso momento non è illegale non è illegale far vedere il logo della Nike o dell'Adidas non è illegale quindi cioè dovete far capire alla gente che allora in questa legge qui insomma c'è scritto anche che cambieranno il copyright e quindi peggioreranno questa situazione non basandosi solo sulla musica o sul video ad esempio ma anche sui loghi sugli stemmi e questa cosa qui a mio avviso è controproducente anche delle stesse aziende società e quant'altro che di fatto vengono pubblicizzate senza pagare nessuno da uno che indossa una maglia di una certa azienda di una certa società vabbè comunque non parlo ovviamente delle squadre di calcio perché sono famosissime però parlo anche di altri prodotti e quant'altro più che altro non so quanto tendano ad andare avanti con questa situazione e a dire e a portare avanti questa lotta questo volere appunto censurare di fatto i social perché parliamo di censura qui perché tirano fuori il discorso dello sponsor del logo dello stemma della musica prima ancora era della musica del video ad esempio me hanno bloccato tre mesi le live perché ho fatto sentire sottofondo la telecronaca Rai ok in Juventus Manchester United quindi tanto per dirvi il discorso copyright è un discorso da affrontare la parte però questo problema dell'articolo 13 c'è il problema dell'articolo 13 è concreto io mi baso molto sulle sia competenze sia sul buonsenso della gente perché in Europa tutti sono contro questa legge tutti non c'è uno che sia d'accordo su questa legge qui perché sappiamo tutti a partire da noi cittadini ad arrivare anche gli stessi politici calciatori giornalisti e quant'altro ok questa legge penalizzerebbe tutti ok noi portiamo contenuti e prendiamo qualcosa da youtube va bene noi magari pagheremo anche di più però comunque in generale non ci sarebbe più il social di fatto e youtube è preoccupato appunto per questo l'ha detto anche Fabi Jay ma ripeto e chiudo per me è una preoccupazione inutile perché so non dico che sono sicuro perché non sarò nella commissione europea nella riunione assemblee europea però però sono sicuro che prima di fare una cosa del genere prima di fare un passo più lungo della gamba ci penseranno 10 100 1000 2 milioni 3 miliardi di volte perché sarebbe veramente una cosa scandalosa appunto per questo poi ripeto io posso eliminare questa cosa qui non mettermi più queste maglie il problema è fatto il gioco è fatto però io come altri vlogger calcistici come me però ci sono altre situazioni cioè youtube dovrebbe controllare milioni e milioni di canali youtube e di fatto non è umano non è possibile e quindi youtube sarebbe destinato come facebook come twitter come altri social a chiudere perché non avrebbero le potenzialità non avrebbero gli strumenti per controllare tutti gli utenti youtube facebook twitter sarebbe umanamente impossibile quindi per questo per me alla fine o si trova un compromesso o la legge decadrà definitivamente buon detto questo vi ho detto la mia non sono preoccupato sinceramente sono più preoccupato della situazione di youtube che sta facendo andare a puttare le visualizzazioni non fa arrivare il feed ancora peggio di qualche mese fa non di questa situazione qui quindi youtube dovrebbe preoccuparsi prima di tutto ad aiutare i youtuber soprattutto a penalizzarli in questa maniera qui e poi magari chiedere insomma qualche servizio qualche aiuto pubblicatemi questa cosa qui spargete la voce o cose del genere perché se prima mi dai la bastonata sulle gambe e poi mi chiedi addirittura un favore è una presa per il culo io ho fatto il video semplicemente per dire la mia però mi sembra una presa per il culo ecco tutto qui detto questo buona giornata a tutti e ci vediamo al prossimo video